E' adesso dalla Lombardia del cetrifico a colori, Sofia Cappelletti l'istruttore di Asia Zannino e Irene De Robinson. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Niente è andata molto bene, il percorso era un pochino difficile però ci ho provato e si è visto il risultato. Sofia Cappelletti l'istruttore si chiama Mugello di Balmabura. Bye bye! Grazie a tutti! 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 Giorgia D'Angelo e l'isola toppa! E quindi segniamo anche il quarto numero di... Giorgia D'Angelo con l'isola toppa... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.